Ben trovati anche questa volta per un nuovo video e questa volta sono particolarmente contento, questo video mi piace tantissimo. Sentite questo bel ronzio di sottofondo, ecco questo ronzio di sottofondo, è musica per le mie orecchie perché siamo in laboratorio e quelli che ronzano sono i miei strumenti preferiti. Anzi sono sicuro che dopo che ve ne avrò raccontato saranno anche i vostri strumenti preferiti. O magari non ve ne fregherà niente perché degli strumenti non ve ne frega niente però questo è un altro paio di maniche. Quanto meno alla fine saprete come faccio le mie cose e che cosa uso per riuscire ad avere determinati risultati. Non interponiamo altri indugi e diamo un'occhiata a quello che c'è alle mie spalle. E non è tutto perché poi daremo un'occhiata anche a quello che c'è davanti a me che non vedete ma vi farò vedere alla fine. Andiamo! Eccolo lì! Quel signore lì è una di quelle cose che risolve veramente un'infinità di situazioni. Ve ne avevo già parlato, ve l'avevo già fatto vedere in un altro video quindi magari vi ricordate che cos'è però è fondamentalmente un alimentatore in corrente alternata. Ora quel coso mi permette di simulare qualsiasi condizione ci si possa ritrovare sulla rete elettrica. Deformazioni della forma d'onda, interruzioni, spike, quello che volete. Dite voi e lui lo può fare. Oltre anche a fornire un 230 volt 50 hertz perfetto. Regolabile in tutti i parametri ma anche con la possibilità di fare le cose normali fino a, non mi ricordo più, qualche kilowatt, un paio di kilowatt di alimentazione. Non solo ma è in grado, collegando un generatore di funzioni, un generatore di forme d'onda esterno, di creare qualsiasi forma d'onda fino a un'ampiezza di 300 e rotti volt rms. Quindi vi può fare tutto. Il tutto monitorando in tempo reale tutti i parametri di alimentazione, quindi tensione, correnti e tutta un'altra serie, spasamenti e tutta un'altra serie di parametri che ci servono quando dobbiamo lavorare su un alimentatore e quando lo dobbiamo analizzare dall'esterno, cioè lato alimentazione. Più banalmente può fare le veci del vecchio variac. Quando dovete accendere un vecchio apparecchio, attaccare la spina e l'aria corrente di botto può portare a qualche problema, dalla rottura di qualche componente allo scoppio dei condensatori d'alimentazione. Ecco, con un oggetto del genere, come si faceva con i vecchi variac, si può far salire la tensione d'alimentazione da zero fino ai 230 volt nominali in modo graduale, manualmente, automaticamente, chiaramente scegliete voi, in modo da fare un lungo soft start ai circuiti ed evitare problemi. O quantomeno, se ci sono problemi, accorgersene, perché se io alzo la tensione a un certo punto la corrente va alle stelle, stacco tutto, c'è un corto, me ne sono accorto e non ho, con un po' di fortuna, spaccato tutto. Ecco, questo coso permette veramente la qualunque. La cosa bella è che voi potete iniettare una corrente sporca a piacere in un alimentatore e vedere come questo alimentatore reagisce leggendo l'uscita, cioè quanto è stabile, quanto mantiene il voltaggio, quanto filtra i disturbi e tutta una serie di cose del genere. Permette un ventaglio di test veramente molto ampio. È una macchina da test. Ecco, nessuno si sogni di usare un oggetto del genere con la scusa che genera la forma d'onda perfetta, eccetera, 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 per alimentarci un impianto wifi, ok? L'avevo già detto anche questo, ma lo ribadisco, è un sistema di test, quindi permette letture e test in determinate condizioni. Un impianto dei nostri che funziona in regime costantemente variabile con oggetti del genere, come con UPS, rigeneratori di corrente e compagnia cantante, sono tutti la stessa cosa, chiamate in modi diversi, ecco, non funzionano, ok? Non vanno bene, vanno bene per fare i test in laboratorio, ma è un'altra cosa. Sappiamo cosa entra, sappiamo cosa deve uscire. Parlando di alimentatori e di alimentazioni, beh, là in fondo abbiamo un paio di veterani, un paio di alimentatori stabilizzati, utili in varie situazioni. Uno, quello nero, è un cinesaccio veramente pessimo, comprato su Amazon per pochissimi soldi, che va giusto bene quando dovete dare corrente a qualcosa, perché la sporcizia e le porcherie che genera non sono neanche immaginabili. L'altro invece è un vecchio alimentatore stabilizzato totalmente analogico e assolutamente lineare, che viene comodo quando appunto ci sia bisogno di una sorgente di tensione piuttosto pulita. Poi vedremo perché. È poco preciso, anche lui non è che sia esattamente il massimo della vita, ma in certe condizioni risolve il problema. Quindi anche se ha parecchi anni sulle spalle, pesa 15 kg ed è ingombrante, io lo tengo lì perché in certe situazioni è proprio quello che viene utile. Poi c'è un'altra cosa che sembra a prima vista un alimentatore, ed è questo scatolino qua. Questo è esattamente il contrario di un alimentatore. Quell'oggetto è un carico elettronico programmabile, regolabile, eccetera, eccetera, eccetera. Che cos'è un carico elettronico? Quando dobbiamo testare un circuito di alimentazione abbiamo bisogno di testarlo nelle condizioni d'uso di quel circuito e le alternative sono due. O si simulano il meglio possibile le condizioni d'uso o lo si mette nell'apparecchio e lo si fa funzionare. Ma se c'è rischio, e a volte c'è, che questo alimentatore salti e ci rompa le apparecchiature che alimenta, è meglio fare dei test prima, dei test di carico, dei test dinamici, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è proprio l'oggetto che ci permette di fare questi test. Noi possiamo dirgli, bene, tu adesso assorbi questa corrente oppure tu adesso presenta questa impedenza al mio alimentatore e lui esegue le nostre volontà mettendo appunto l'alimentatore in condizioni di funzionare sotto carico nominale e controllato. Perché? Perché si possono comunque settare degli allarmi, io voglio lasciare l'alimentatore sotto carico 24 ore per vedere come funziona, c'è rischio che salti per aria. Benissimo, io posso dire al mio carico guarda che se certi valori vanno fuori tolleranza stacca tutto. Oltretutto se io voglio simulare dei carichi variabili, lui mi permette di farlo variando l'assorbimento, variando i parametri a seconda di come io decido. Quindi mi permette effettivamente di stressare anche se voglio i miei alimentatori e vedere come reagiscono. Perché? Perché io posso mettere l'alimentatore sotto carico nominale o addirittura superiore o inferiore a quello che deve essere e con gli strumenti verificare come questo alimentatore si comporta senza dover attaccare e staccare il carico reale o modificare altre cose per vedere che cosa succede. Lì mi basta cambiare i parametri, modificare i parametri che mi servono e posso vedere come il mio alimentatore si comporta in base al variare del carico. Per cui potrò andare, dopo aver fatto magari un progetto a tavolino, un dimensionamento di induttori e condensatori a tavolino, potrò andare a vedere come effettivamente si comporta questo alimentatore e andare a variare, andare a regolare quello che mi serve se necessario dopo aver verificato effettivamente in regime di funzionamento come vanno le cose. E questo è di nuovo un'altra comunità. Perché avere degli strumenti di misura è fondamentalmente una comunità. Ci permette di esaminare le nostre cose in maniera comoda e pratica. Perché tutte queste misure le potremmo fare con strumenti molto più semplici o senza strumenti. Cambiando i parametri del circuito a mano e con un tester e magari un oscilloscopio se proprio proprio avremmo risolto tutto. Solo che ci si metterebbe 10 volte il tempo. Così invece possiamo andare e guardare i parametri che ci servono immediatamente senza doverci inventare degli archibugi o dei test set spettacolari per verificare il funzionamento delle nostre cose. Ma vogliamo parlare di alimentatori? E allora parliamo di alimentatori seri, quelli veri. E quello, signore e signori, è un alimentatore vero. Non sarò certo io che devo far pubblicità alla Rode Schwarz. Ci pensa da sola, sa benissimo fare le cose come vanno fatte. Quindi va bene così. Però vi volevo parlare di quel signore perché effettivamente ne vale la pena. Ebbene, quel signore nel suo campo permette di fare praticamente tutto. Tutto quello che potreste pensare di voler far con un alimentatore in corrente continua. Quattro uscite, tutte e quattro regolabili indipendentemente, con la possibilità di essere collegati in parallelo, in serie, A2, A2, A3, insomma quello che volete. Con tutti i parametri sotto controllo e loggati. È praticamente quanto vi serve per sviluppare qualsiasi tipo di circuito. Avete un DAC giusto per non fare nomi? Da lì potete ricavare indipendentemente le tensioni che vi servono per digitare, per analogico, in positivo e in negativo, tutto quello che vi viene in mente. Senza dover attaccare 50 alimentazioni, voi attaccate la board e da lì vi ricavate i voltaggi che vi servono. Ha un range ampissimo, da 0 a 64 volt, collegabile sia in positivo che in negativo, per cui se avete bisogno di alimentazioni duali vi permette di farlo. vi permette di gestire rampe di salita e rampe di discesa dall'alimentazione, vi permette di programmare alimentazioni variabili collegato all'esterno con un pc che lo gestisca, vi può generare praticamente tutte le situazioni, tutti gli scenari che volete. E lo fa comunque con una precisione e una pulizia veramente notevoli. La particolarità di questo alimentatore è che utilizza un circuito a due stadi, con una parte switching di potenza che sgrossa le alimentazioni e poi delle parti di regolazione lineare a basso rumore per le diverse uscite, tutte controllate chiaramente da un microprocessore interno che si interfaccia tramite rete, tramite interfaccia di comunicazione per gli strumenti di misura eccetera. Quindi molto più di quello che serve l'80% delle volte che fate un lavoro, ma per quel 20% in cui vi serve controllare ad esempio come si comporta un determinato circuito con un particolare transiente di accensione o di spegnimento, cioè chiaramente quando voi accendete l'interruttore del vostro apparecchio la tensione non passa da 0 a X in 0 secondi, passa da 0 a X in qualche modo, per cui ci sarà una rampa di salita più o meno ripida più o meno deformata che può influenzare il comportamento dei vostri componenti. Quando c'è di mezzo qualcosa di digitale può anche fare la differenza tra il funzionamento o meno del circuito, perché magari una rampa di salita sbagliata manda fuori sync qualche basso o qualche cosa e non vi funziona più niente. Quindi con questo sistema vi permette anche di simulare questi frangenti molto critici che però possono influire sull'attività di quello che state facendo. Ad esempio, quando ho sviluppato il DAC1 e poi il nuovo DAC di cui non vi dico ancora il nome, il problema del transiente d'accensione era molto importante. Con questo sistema ho potuto andare a verificare quale fosse il transiente d'accensione tollerabile dai circuiti digitali e regolare il mio circuito d'alimentazione di conseguenza in modo da poter avere un circuito estremamente analogico di alimentazione che potesse far funzionare bene un circuito estremamente digitale come quello del DAC. I due mondi non sempre vanno d'accordo al primo sguardo. In questi casi bisogna andare a cercare quelle piccole cose che non è tieni la tensione stabile a 5 volt ma anche come arrivo da 0 a 5 volt quando accendo l'apparecchio, che può essere molto più difficile da gestire che non la stabilizzazione stessa. Comunque siamo già un totale di due strumenti che utilizzano dei circuiti switching per funzionare. Il primo era l'alimentatore in corrente alternata e il secondo è il nostro alimentatore in continua. Per quelli che dicono che io odio i circuiti switching, non è vero, è assolutamente vero, dico solo che vanno usati dove servono, dove non vanno bene bisogna evitare di usarli, tutto lì. In questi casi vengono molto bene. Un po' defilato qua sotto perché è il tuttofare ma insomma poi alla fine ce lo si dimentica un po', il vecchio caro multimetro a 4 cifre e mezza della Fluke che è con me da ormai credo 30 anni e non ha mai avuto neanche l'ombra di un singhiozzo. Continua a funzionare perfettamente anche se non è un 8 cifre e mezzo ma francamente per i miei circuiti la precisione di questo apparecchio è più che sufficiente. Magari un 6 cifre mi farebbe comodo e un giorno ci penserò. Per adesso non è esattamente una priorità per cui il signore con la sua costanza di funzionamento e la sua precisione fa assolutamente il suo mestiere con tutti gli anni che si porta sulle spalle. E direi che tutto quello che riguarda l'alimentazione su questo banco lo abbiamo visto. Adesso passiamo alla parte un pochino più succulenta che sono tutti gli strumenti di misura e di generazione di segnali analogici e digitali. E gli strumenti di misura che vedremo sono veramente dei gran begli strumenti indipendentemente dal loro costo. Sono proprio delle cose che vale la pena conoscere e che è un piacere utilizzare in laboratorio. Questo strumento da solo varrebbe un video. Non è uno strumento nuovo, non è uno strumento particolarmente conosciuto, non è un HP, non è un Tektronix, non è un Rode Schwarz, è uno strumento anni 80, è un Panasonic 7722A ed è quello che ai tempi era un Audio Analyzer, cioè uno strumento per analisi audio. Lo abbiamo già visto all'opera nel video del preamplificatore audio exclusive, ma qui ve lo faccio vedere nel suo ambiente naturale. Che cosa fa questo strumento? Due cose. genera un segnale sinusoidale alla frequenza che volete voi e all'ampiezza che volete voi, estremamente puro. Estremamente puro cosa vuol dire? Eh lo leggiamo qui. 0,00005% di distorsione armonica. Non è malaccio direi, è uno dei generatori audio più puri, generatori audio regolabili, aggiungo, più puri che esistano attualmente in commercio. E in questo caso in commercio vuol dire chiaramente anche il mercato dell'usato, perché questo signore non è più prodotto da una vita, ma gli strumenti della sua famiglia più recenti di questo non erano così accurati, non avevano un generatore così puro, avevano un qualcosina di distorsione in più. In questo caso parliamo di meno 127 dB di distorsione, meno 127,2, 126. Chiaramente a questi livelli siamo talmente in basso che questa variazione è il rumore. Essendo uno strumento totalmente analogico, a parte i circuiti di controllo, che sono dei circuiti digitali molto rudimentali, molto semplici, questo strumento va riscaldato, cioè questi valori riesce ad averli quando tutto lo strumento è a temperatura. Difatti il rumore che sentite in gran parte è responsabilità sua, avendo tutte delle parti che devono raggiungere una temperatura che deve rimanere costante, ha anche un sistema di ventilazione molto abbondante. La parte di analisi è altrettanto interessante rispetto a quella di generazione, anche se negli strumenti moderni questo tipo di prestazioni, questo tipo di misure le possiamo fare, vedremo, e le possiamo fare anche in maniera più completa e più accurata. Essenzialmente cosa ci permette di fare? Boh ci permette di vedere tutta una serie di parametri su due canali, tra l'altro perché legge due canali in ingresso, che possono essere rapporti, segnali, rumori, distorsioni, ci permette di vedere la differenza tra i due canali in ingresso, ci permette di vedere il cross talk tra i due canali, cioè iniettando i segnali in uno quanto ne arriva nell'altro, ci permette di analizzare la distorsione da intermodulazione, la distorsione armonica, di analizzare le singole armoniche fino alla quinta, per vedere quanto è il contenuto di ogni singola armonica in termini di energia. È dotato dei suoi filtri e di tutte queste cose per avere un'analisi estremamente comoda, cioè se io devo dare un'occhiata a un circuito e non ho voglia di attaccare analizzatori di spettro, analizzatori più potenti eccetera eccetera, io accendo semplicemente questo strumento, attacco l'ingresso e l'uscita e qui numericamente, senza grafici tanto belli eccetera, riesco a vedere tutto quello che mi serve nel 90% dei casi e a volte anche di più. Perché comunque con un'accuratezza di analisi del genere e con un generatore analogico di quella precisione mi permette di fare delle misure che anche gli altri strumenti più avanzati che vediamo dopo non mi permettono di fare con quella cura. Per cui lunga vita al nostro analizzatore l'Intage, che poi l'Intage come abbiamo visto tutto sommato non è così tanto. Ma un bello strumento con tutte le lucine, il suo bello schermo, i tastini, le manopoline, ce lo vogliamo negare? Non ce lo vogliamo negare vero? E in questo caso più che di strumento di misura vi vorrei parlare di uno strumento di misure, l'ho già lodato in ogni modo possibile, questo apparecchio è veramente una bomba. Guardate cosa mi sta permettendo di fare. Sì è un oscilloscopio, però chiamarlo oscilloscopio in questo caso mi sembra veramente riduttivo. Abbiamo addirittura tre, se ne possono mettere di più, tre finestre di misura contemporanee a video. Stiamo misurando nell'ordine quattro canali di segnale in ingresso. Abbiamo quattro analisi di spettro contemporanee in quest'altra finestra qui sopra. E poi abbiamo un'altra misura ancora più particolare, un histogramma molto particolare nella finestra di sinistra. Tutto in tempo reale, così come ridere. E con 16 bit di precisione, caratteristica che per un oscilloscopio non è di certo comune. Ma vediamo un pochino così, ma molto a grandi linee che cosa stiamo leggendo su questo video. Visto che abbiamo appena parlato del nostro generatore Panasonic, ecco le prime due tracce arrivano proprio dal Panasonic, eccole qua, una e una due. Sono l'uscita sinusoidale, la gialla, e quella azzurra è il residuo di distorsione. Sì, perché non ve l'avevo detto, ma questo signore, oltre a dirvi quanto sta distorcendo il vostro circuito, la vostra sorgente o quello che è, da questa uscita, che si chiama monitor, vi fa anche vedere il residuo di distorsione, cioè tutto quello che non è segnale. E nel nostro caso, guardando la traccia azzurra, è evidente che stiamo leggendo praticamente solo rumore. Del nostro segnale di partenza non vi è praticamente più traccia. Diventa veramente difficile misurare il residuo di distorsione più rumore, in questi casi. Delle stesse misure, nella finestra sopra, mi sta facendo un'analisi di spettro, per cui vediamo sulla traccia gialla l'analisi di spettro del segnale giallo. Sulla traccia azzurra, l'analisi di spettro della traccia azzurra di segnale, perché è rumore, come dicevamo prima, non c'è più traccia del segnale originario. Contemporaneamente, gli altri due segnali sono di nuovo un segnale e un residuo di rumore che arrivano da un altro sistema di misura che vi racconterò fra un momento. La cosa carina è l'istogramma di Ola. Questo strumento può leggere la frequenza di un segnale di ingresso e di fatti abbiamo qui sopra l'indicazione frequency con un kHz misurato, leggermente variabile, fra un kHz e 999.9 Hz. Lui può darvi una statistica di queste variazioni, cioè la distribuzione nel tempo della frequenza precisa del mio segnale, ovvero con quanta probabilità la mia frequenza ha un certo valore nel tempo. E allora su questo grafico ecco che dalle letture successive si va a formare una specie di gaussiana che mi dà la distribuzione della frequenza, che come si può vedere è abbastanza stabile perché il grafico è centrato attorno a un kHz con una dispersione molto molto bassa. Che cosa vuol dire? Che con un oggetto del genere potrò anche andare a leggermi ad esempio il jitter e la distribuzione temporale del jitter di un segnale di clock. Perché se io ho un clock di una linea dati che dovrebbe essere 44,100 kHz, tipo il clock di un cd, io vado a misurarlo, vado a chiedergli il grafico della distribuzione e lui mi darà la distribuzione della frequenza, ovvero la distribuzione probabilistica del jitter, cioè di quanto si sposta la mia frequenza e dove si sposta. Così giusto per fare delle misurine interessanti anche sul digitale. Tutte queste misure sono ulteriormente elaborabili con tutta una serie di funzioni matematiche, sono acquisibili da pc per cui potete fare statistiche, potete fare quello che volete, ammesso che vi serva. Però ecco, la potenza di quel signore è veramente alta, non solo a livello di acquisizione, perché comunque un'acquisizione a 16 bit a 6 mega sample al secondo è qualcosa di notevole, ma tutta l'elaborazione che si può fare su questa mole di informazioni è altrettanto notevole e utilissima. Vi permette di andare a vedere delle cose la cui utilità comincia a diventare veramente molto discutibile, o meglio, dipende da quale livello di affinamento volete quando fate le vostre misure, cioè che livello di conoscenza volete del vostro circuito. Con questo si riesce a scendere abbastanza nel dettaglio per quanto riguarda i circuiti audio analogici e anche per quanto riguarda i circuiti audio digitali, che sono le cose che ci riguardano. Mentre stiamo guardando oscilloscopi, analizzatori, eccetera, vi faccio vedere una cosa, giusto per riferimento. Visto che stiamo parlando di oscilloscopi, generatori di segnale, eccetera, vi faccio vedere la differenza che c'è fra il segnale che esce dal generatore super preciso del nostro Panasonic e il segnale che esce da un generatore più che deguitoso, un generatore di funzioni programmabile che c'è qua sopra. È sempre una sinusoide a 1 kHz a 2 volte RMS. Ecco qua, aspettiamo la lettura e questo è quello che vediamo dal nostro generatore esterno, che è tutt'altro che un cattivo generatore, intendiamoci però, è un generatore sintetizzato. Riusciamo ad avere una sinusoide con una precisione del 0,04%. Prima eravamo allo 0,00004%, una bella differenza direi. Ma buttiamo un occhio al residuo di distorsione, cioè al nostro grafico azzurro. Vedete che l'aspetto del residuo di distorsione è cambiato completamente. Non abbiamo più solo un fondo di rumore, ma abbiamo proprio un segnale che ha una frequenza multipla del nostro segnale di partenza con tutta una serie di altre schifezze. Se noi andiamo a vedere l'analisi di spettro della distorsione, vediamo che escono fuori sul grafico azzurro qua sopra tutta la serie dei picchi delle armoniche che sono piuttosto alte. Questo è quello che fa proprio un generatore DDS di questo tipo, che ripeto, va molto bene perché può generarmi qualsiasi tipo di segnale, non solo una sinusoide, ma è chiaramente meno preciso di un generatore analogico di precisione. Come promesso vi ho lasciato il meglio alla fine, perché qua sotto c'è il mio piccolo orgoglio. Quello che in ogni laboratorio dove si fa un po' di audio dovrebbe sempre esserci, ma purtroppo non è così facile mettercelo. Questo è l'audio precision system 2722 192kHz, anche qui non devo certo io fare pubblicità audio precision. Fondamentalmente è la versione evoluta dell'analizzatore audio che abbiamo visto prima. È un sistema che deve essere collegato a un pc per essere utilizzato, è una scatola piena di interfacce di ingresso e uscita, di sistemi di generazione e di acquisizione del segnale. Segnale che in questo caso può essere digitale o analogico. Infatti ho tutta una serie di uscite analogiche e digitali, complementate dagli ingressi analogici e digitali. Cosa mi permette di fare questa macchina? Mi permette di generare il segnale che voglio, fondamentalmente, sia in analogico sia direttamente in digitale, cioè praticamente gli attacco un cavo digitale spdif e dall'altra parte ci attacco un convertitore e lui mi genera il segnale che voglio io. Così io posso leggere in uscita dal convertitore che cosa esce. Posso fare praticamente qualsiasi misura audio vi venga in mente. L'accuratezza è dell'ordine di grandezza dell'analizzatore che abbiamo visto prima, solo che è totalmente gestibile via software. Quindi io posso misurare la linearità di un DAC a 24 bit e leggerla, cioè vederla proprio tabellata. Posso chiaramente analizzare qualsiasi circuito analogico da qualsiasi punto di vista. Posso addirittura con questa interfaccia supplementare andare a collegarmi direttamente ai circuiti integrati di conversione, quindi DAC o ADC e iniettare o leggere segnali di basso livello, cioè segnali I2S, iniettando nel nostro sistema o leggendo dal nostro sistema qualunque tipo di dato su cui posso fare tutte le misure digitali possibili ma anche analogiche, nel senso che posso andare a vedere ad esempio il jitter e posso anche crearlo. Quindi con questo sistema io ho potuto testare i miei DAC, finalmente, simulando un segnale brutto in ingresso, modulando del jitter a mio piacimento e vedere qual è la resistenza di questi circuiti al segnale brutto, cioè quanto riescono a eliminare il jitter prima di degradare il segnale in uscita. Questa non è una misura che si può fare con altri strumenti che io sappia, o meglio si può fare con strumenti che però non ho mai visto, perché c'è una linea Rode-Schwarz dei analizzatori che questo tipo di gestione la potevano fare, ma non ne ho mai visto uno attrezzato con l'hardware che lo potesse fare. Ecco, questa macchina riesce a fare tutto questo e altro con una precisione dell'ordine dell'analogico, ma con una gestione totalmente digitale e un'accuratezza di misura della forza di quell'oscilloscopio. Tutti i segnali digitali sono gestibili fino a 24 bit, 192 kHz. Tutta l'analisi può essere effettuata nel dominio analogico o nel dominio digitale, nel senso che dentro a questo signore c'è un analizzatore analogico di quel tipo, che mi permette di fare tutta una serie di misure, e poi c'è un analizzatore complementare totalmente digitale, che mi permette di fare le stesse misure di distorsione, ampiezza e tutto il resto, ma tramite un DSP interno, quindi tramite elaborazione digitale del segnale. Se noi guardiamo lo schermo in questo momento, quello che sto facendo è essenzialmente generare una sinusoide analogica e poi farla rianalizzare dai due analizzatori. L'analizzatore analogico e l'analizzatore digitale. Ecco, vedete che ho i due valori di distorsione che mi vengono forniti da entrambi gli strumenti contemporaneamente. Ecco qua. E vediamo anche che i due valori non sono uguali, ma questo è per una questione dipendente dal sottoscritto, nel senso che, avendo collegato un sacco di cavi e un sacco di strumenti contemporaneamente, c'è un bel loop di massa che inietta un bel 50 Hz, per cui il rumore viene gestito e misurato in maniera diversa dai due analizzatori e ho due letture leggermente diverse, da una parte o meno 108 dB, dall'altra parte o meno 112, ma ecco sono dovute proprio al rumore e non alla differente lettura. Anche la generazione dei segnali può essere gestita da un generatore analogico o da un generatore digitale, a scelta. Per cui posso generare una sinusoide estremamente pura, come facevo prima, oppure generare qualsiasi segnale di qualsiasi forma, come avrei fatto con quel generatore che distorceva molto, ma con un generatore che distorce comunque pochissimo, perché ha una sintesi digitale di nuovo ad altissima precisione, quindi i valori di distorsione in questo caso non si discostano molto fra il generatore ad alta precisione e il generatore digitale, come era successo nell'altro caso. Insomma c'è veramente tanto da divertirsi e tanto per capirci, questo è una parte, poco più di metà, del manuale d'uso di questo apparecchio. Questo apparecchio era il top di gamma della scorsa generazione, che è tuttora corrente, la generazione attuale ha delle caratteristiche leggermente migliori per l'attuale modello top di gamma, che però configurato alla pari viene a costare circa 50.000 euro. Ecco questo fortunatamente sono riuscito a trovarlo negli Stati Uniti, è una cifra un po' più ragionevole se non avrei già chiuso bottega. E direi che per quanto riguarda la parte di analisi dei circuiti vi ho raccontato che cosa uso. In realtà ci sarebbe ancora lì sopra in un angolino la vecchia Caraclio, ma l'ho lasciata per conto suo di proposito perché lei è dedicata non tanto all'analisi dei circuiti, anzi per niente all'analisi dei circuiti, ma alla misura degli altoparlanti. E quindi è un oggetto che fa per conto suo, non ha la precisione della misura di audio precision dei nostri analizzatori, ma in compenso ha delle flessibilità d'uso e delle caratteristiche che sono mirate per la misura degli altoparlanti, dei crossover eccetera eccetera. Ad esempio ha un'uscita di potenza, un amplificatore che ci permette di collegare direttamente un altoparlante e di misurarlo col microfono dall'altra parte, ha un sensore per l'impedenza degli altoparlanti, tutto integrato. È chiaro che si tratta di un oggetto dedicato ad un uso specifico e che nel suo ambito è assolutamente formidabile in termini di praticità, pur non avendo la precisione di altre cose che ci sono qui. E questa è solo una delle due parti del laboratorio, perché dall'altra parte, come vi dicevo, c'è un altro banchettino che serve solamente ai test della componentistica. Quindi direi abbiamo fatto 30, facciamo 31, giriamoci dall'altra parte e vi faccio vedere gli altri strumenti. Ed eccoci dall'altra parte del laboratorio. Questo banchettino qui è nato non tanto tempo fa ed è riservato alle prove sui componenti. Gli strumenti di misura che vedete qua servono tutti a testare componenti attivi e passivi. Quindi resistenze, condensatori, induttori, trasformatori, transistor. Ebbene sì, transistor, avendo fatto un DAC a stato solido, ho dovuto attrezzarmi anche per la selezione dei transistor. Vediamo di capire fino a che punto la mia follia si è spinta nel cercare di capire alcune cose. Questo strumento qui lo conoscete già perché l'abbiamo visto. È quello che serve, che abbiamo usato per misurare i condensatori, che ci permette di verificare tutte le non idealità dei nostri componenti. E lo fa per i condensatori, abbiamo visto, ma lo fa anche per le resistenze e per gli induttori. Per cui per ognuno di questi componenti passivi io posso, in banda audio o poco più, andare a vedere come si comporta e dove è più giusto utilizzare un certo componente. O più banalmente posso utilizzarlo per selezionare i componenti. Posso impostare l'accuratezza della mia selezione e poi andare a misurare tutta una serie di componenti che lui mi organizzerà a seconda della loro discrepanza dal valore voluto. Per cui voglio selezionare resistenze da un Kilo preciso? Benissimo, lui mi metterà in condizione di separare le resistenze da un Kilo da quelle da 1.1, 1.2 oppure addirittura per valori ancora più accurati. E vi assicuro che quando dovete fare un circuito senza controreazione, la selezione dei componenti è estremamente utile, estremamente necessaria per riuscire ad avere comunque livelli di distorsione molto bassi. Citazione, il DACA transistor. Con questa macchina abbiamo potuto selezionare tutte le resistenze e tutti i condensatori entro valori veramente molto stretti in modo da avere il nostro circuito estremamente lineare, estremamente preciso senza dover applicare correzioni strane. Un altro strumento che a vederlo così gli date veramente due soldi ma che mi ha aiutato moltissimo è questo signore qua. Questo serve per la misura, il test e la selezione dei transistor e dei diodi di ogni tipo, dei semiconduttori. Ma in realtà questo signore collegato a un pc tramite porta usb è un completissimo traccia curve che ci permette anche qui di fare una selezione e un test e una verifica dei nostri dispositivi in maniera estremamente accurata e non costa neanche caro. Anche qui per il nostro solito DACA transistor la selezione dei dispositivi attivi è stata assolutamente necessaria perché vuol dire perdere punti percentuali di distorsione solo perché i componenti non sono esattamente accoppiati. Quando però vi parlavo di follia in realtà mi riferivo a questo signore qua. Questi 50 kg di alluminio e ferro americani della Hewlett Packard sono un analizzatore di spettro, di rete elettrica e di impedenza. Questo è uno strumento di misura decisamente complicato e decisamente poco diffuso. Storicamente strumenti del genere si sono sempre usati per le misure radiofrequenza, misure di antenne, misure di linee di trasmissione, cavi RF e circuiti di filtro. Però uno strumento del genere viene estremamente utile per capire molte cose anche in banda audio. L'unico problema di questo tipo di strumenti è che sono costosissimi. Cioè un oggetto recente, chiaramente aggiornato, più bello, più potente eccetera, arriva a costare senza troppi problemi un centinaia di migliaia di euro. Un oggetto come questo di 40 anni fa, essendo HP, ha ancora una precisione sufficiente per i nostri lavori e un range di frequenze assolutamente sovrabbondante. Questo signore può fare misure fino a 500 MHz. Che tipi di misure si possono fare con uno strumento del genere? A patto di studiarsi un pochino il manualino, così è giusto per capire come orizzontarsi in questo coso, ma dopo aver letto un po' di questo bellissimo e compattissimo manualino, è possibile misurarci tutta una serie di cose. Una delle cose che è possibile misurare, e so che non ve lo dovrei dire, ma sono ovviamente i cavi. Io posso prendere il mio cavo, attaccarlo fra un ingresso e un'uscita, e poi dire al signore di farmi l'analisi di come questo cavo fa passare i segnali in ampiezza e in fase. E ci sono sempre delle sorprese molto interessanti, mettiamola così. Oppure posso analizzarci un filtro, banalmente posso prendere un filtro crossover, metterci l'ingresso da una parte l'uscita dall'altra e leggermi i valori effettivi dei miei passalto e passabasso. Però non è la cosa più comoda da fare con questo strumento, con quegli altri o con la Clio ad esempio. Ecco se si parla di un crossover è molto più semplice, molto più rapido, ma questo lo può fare. Il reale motivo però per cui io ho messo mano su questo strumento è questo particolare scatolino. Questo particolare scatolino, che ha solamente un connettore da una parte, ma ne ha ben quattro dall'altra, permette di analizzare un singolo componente alla volta. Naturalmente nell'ordine di idee di chi ha progettato questi apparecchi, qui ci sarebbe dovuta essere collegata un'antenna, una linea di trasmissione o qualcosa del genere, ma in realtà siccome questo apparecchio, a differenza di altri, ha la capacità di scendere fino a 0 Hz in frequenza, io qui ci posso collegare un mio componente, una resistenza, un induttore, un condensatore, e analizzare il comportamento di questo componente alle frequenze più alte. Vi ricordate che il nostro apparecchietto piccolo arrivava fino a qualche centinaia di kHz? Bene, io con questo posso andare a vedere come si comporta il mio componente fino a 500 MHz e questo è il motivo per cui questo signore è qua, perché posso effettivamente andare a vedere come si comportano determinati componenti a determinate frequenze. Quando cominciamo ad avere, nello stesso case, dei circuiti analogici e dei circuiti digitali, con frequenze che variano dai pochi kHz, dalle decine di kHz, ai MHz dei clock di funzionamento dei nostri circuiti digitali, è importante capire come i componenti che sto utilizzando reagiscano anche a queste frequenze altissime. Funzionano ancora? Oppure mi lasciano passare disturbi? Cosa sta succedendo? Ecco, con questo strumento, a patto di leggersi parecchie pagine di manuale, posso arrivare a fare quelle misure. Il che, quando uno come sottoscritto tende a voler fare sempre le punci delle cose, sono decisamente molto utili. Siete arrivati fino qui? Beh, avete tutta la mia comprensione, sinceramente. Spero che sia stato interessante vedere non solo le cose, ma anche come le cose vengono fatte, cosa sta dietro al semplice circuito che a un certo punto salta fuori, no? Tutti i retroscena, quelle cose che non si sa neanche che esistano, ma che in realtà sono parte essenziale, se si vuole, costruire qualcosa di realmente buono. Spero che abbiate apprezzato il fatto che vi abbia portato qui in mezzo alle mie cose più segrete, se così si può dire. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mettete un like e condividete per far vedere un po' di strumenti a chi non se ne intende e noi ci vediamo al prossimo video.